All'Aquila, come in molte altre città d'Abruzzo ed Italia, il primo cittadino ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo di botti e petardi nella serata del 31 dicembre. Una questione di civiltà e rispetto, soprattutto per gli animali ed amici a quattro zampe, al quale non resta che nascondersi, per i rumori derivanti dalle deflagrazioni. Nel capoluogo però qualcosa non va, come spiega il consigliere comunale di opposizione Alessandro Piccinini, che parla di ordinanza lacunosa e priva di una effettiva efficacia deterrente. L'esponente di centrodestra spiega come il sindaco non vieti o quantomeno non renda difficoltosa la vendita di petardi e simili ed è dimostrato dai punti vendita disseminati nei diversi punti della città, i quali espongono in bella vista il materiale perotecnico e poi sottolinea come nel testo diramato qualche giorno fa dal sindaco non venga individuato il soggetto che è deputato al controllo per le fasce orarie in cui si concentrano tali manifestazioni, né tantomeno vengono introdotte sanzioni tali da persuadere all'utilizzo di tale materiale. Un divieto senza sanzioni adeguate, insomma, non viene rispettato da nessuno, conclude Piccinini, che invita Cialente a modificare l'ordinanza a poche ore dal Capodanno affinché vengano applicate sanzioni in modo tale da tutelare animali, domestici e nonna e tutte quelle categorie maggiormente esposte e poco tolleranti della soglia di rumore che viene raggiunta la notte di Capodanno.